Applausi, è lui, il famigliatore della terza edizione della Gran Fondo del Matese, Alexei Medvede. Primo alla Gran Fondo di Monteriggioni, ora presente a presentare questo grande domenica di me, è lui, Alexei Medvede. Prima l'hai provato in un strappo, poi ho allungato un po', ho giocato in discesa, poi ho visto che la gamba va alto, è un peccato. Io adesso è veramente organizzatore perché è veramente bello e forte, ma proprio peccato che l'hai provato qui non adesso, perché là veramente fa esperienza.